Come stai? Guarda un vento che spinge in città? Il piacere! Il piacere! Da che cos'altro ci si dovrebbe far spingere se non da piacere? E tu? Sempre a fumare, quello. Credo che fumare al 5 del pomeriggio sia tra gli usi della buona società. Poi, dove sei stato, Gianni, scorso? In campagna. E prendiamo il giochonbino. In città ci divertiamo noi, in campagna divertiamo gli altri. E' di una noia, però, di un'altra. E chi sono questi altri che diverti? I vicini. E che vicini si parla? C'è quella tua parte dello Shropshire. Assolutamente orretti. Non rivolgo mai la parola a nessuno. Chissà come li sverso. A proposito, è lo Shropshire, la tantea, no? Lo Shropshire, sì, sì, certo. E ma perché? Tante tazze. Perché le tartine a cetriolo? Qual è il motivo di una prodigalità così sprenata in un giovane? Chi viene a prendere l'idea delle città? Soltanto la zia Augusta e Guendari. Che bella noia. Oh, sì, sì, certo. Ma credo che la zia Augusta non troverà la tua presenza qui. Perché? Perché? Guarda, tu puoi la corta Guendari in maniera assolutamente disgustosa. Non, 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 non